Questa storia per parlarvi di una startup che si chiama ImmobileLasta.it che sta raccogliendo un round di investimento su Mama Crowd. Come sapete io spesso faccio video in bucato da dove intorno alle aziende alcune volte sono entrato anche nelle startup che stavano raccogliendo su Mama Crowd e così le persone che hanno visto il mio video hanno anche potuto investire in alcuni casi. In questo caso però non posso fare perché sono un po' in ritardo. Il round di investimento di ImmobileLasta.it termina tra pochi giorni. Cos'è quindi ImmobileLasta.it? È una piattaforma per aiutare le persone a comprare casa all'asta. Esiste già da qualche anno, hanno curato più di 8000 immobili e fatturano già qualche milione. Il motivo però per cui adesso ha senso investire è perché dopo tanti anni fare un mutuo non è più tanto conveniente. Se comprare una casa con un mutuo diventa sempre più difficile, comprare casa all'asta diventa un'opzione automaticamente un po' più allettante perché ti permette di comprare la casa a un prezzo decisamente minore. Ma chiaramente ci sono delle cose che bisogna sapere. Insomma ImmobileLasta.it è quella piattaforma che ti permette di fare tutto in maniera serena e guidata. Vi lascio un link di Mama Crowd così potete esplorare, conoscerla. E poi se anche vi interessa potete anche investire.